Hanno mentito. Lei se ne starà alla larga per un paio di settimane, poi si rimetteranno insieme e rovineranno questi polmoni. Lei sarà ancora in ospedale. Vuole bloccare il trapianto? È troppo tardi, gli organi stanno arrivando, è già tutto in movimento. Forse andrà bene. Sa, forse non sarà uno spreco. Loro si amano. È una cosa rara, e se fossero anime gemelle? Stai di nuovo pensando a Sloan? No, perché? Ha detto a Callie che sarebbe felice di allevare anche un bambino con dei gravi problemi. È una brava persona. Non ci pensavo quando me ne sono andata. Mi sono arrabbiata e sono andata via. Tu ci hai pensato. Tu pensi a tutto. E se mi fossi sbagliata? Tu vorresti davvero stare con un uomo, due donne e un bambino? Sì, beh, sembra terribile. Dici?